Piotr Zilinski è il nuovo acquisto dell'Inter il centrocampista polacco, recentemente ingaggiato, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore nerazzurro nella sede del club, in Viale Liberazione. Zilinski, noto per la sua tecnica e visione di gioco, ha condiviso le sue prime impressioni e aspettative quando si è unito alla squadra italiana. Alla domanda sull'effetto di sapere che giocherà nell'Inter, Zilinski ha espresso soddisfazione ed entusiasmo. Sono molto felice perché arrivo in una delle squadre più forti del mondo. Per me è un onore, non posso aspetta per iniziare. Le sue parole riflettono la gioia e la motivazione che prova nel far parte di uno dei club più prestigiosi del calcio europeo. Lascia un mi piace al video se ti è piaciuto questo acquisto e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sulle novità della squadra nerazzurra. Per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter, noto per la sua qualità e dinamismo, Zilinski ha riconosciuto la competitività e le opportunità future. È vero, il centrocampo è uno dei punti forti dell'Inter. Cercherò di dare il mio contributo, sperando che la squadra diventi ancora più forte, ha detto il giocatore. Questa affermazione dimostra la tua volontà di contribuire al continuo successo della squadra, riconoscendo al contempo l'alto livello dei tuoi nuovi compagni di squadra. Interrogato sulle sue esperienze di fronte all'Inter da avversario, Zilinski ha ricordato le sfide e l'organizzazione della squadra milanese. Le partite contro l'Inter sono sempre state molto difficili, è una squadra ben organizzata e con tanta qualità. Hanno sempre pressato molto bene, attaccando subito l'avversario dopo ogni palla persa per riconquistarlo il più velocemente possibile. Questo è sempre stata una chiave importante, oltre chiaramente alla grande qualità della squadra, ha affermato. Questo riconoscimento sottolinea la forza e la strategia dell'Inter, fattori che ora spera di rafforzare ulteriormente all'interno della squadra. Zilinski ha parlato anche della sua vasta esperienza nel calcio italiano, accumulata in 12 anni in Serie A. Sono in Italia da 12 anni e sono molto felice di poter continuare la mia carriera qui. Mi sento molto bene e penso che mi adatterò molto bene a questa squadra, ha dichiarato il Polacco. La sua familiarità con il campionato italiano sarà sicuramente una risorsa per il suo adattamento al nuovo club. Un traguardo significativo nella sua carriera è essere stato il primo polacco a vestire la maglia dell'Inter. Sono molto orgoglioso di essere il primo polacco a vestire questa prestigiosa maglia. L'Inter è una grande squadra e cercherò di dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili, ha detto Zilinski, sottolineando l'orgoglio e la responsabilità che prova nel rappresentarlo. Il suo paese in un club di tale importanza. Zilinski, infine, ha lasciato un messaggio speciale ai tifosi dell'Inter, sottolineando l'importanza di giocare nello storico San Siro. Cercherò di dare tutto per rendere felici i tifosi, sono fantastici e San Siro è uno degli stadi più belli d'Italia. Farò di tutto per dimostrare le mie qualità e portare più trofei a questo club, ha concluso il giocatore, promettendo dedizione e impegno per vincere titoli e rendere felici i fan. Cosa ne pensi dell'arrivo di Piotr Zilinski al club? Sei entusiasta del suo acquisto e delle prospettive che porterà alla squadra? Lascia la tua opinione nei commenti e metti mi piace al video per altre novità sull'Inter.